Il Covid torna a fare vittime nel Sannio. Tra i reparti dedicati all'emergenza dell'ospedale San Pio si è spenta una 92enne di San Marco dei Cavoti e il numero delle vittime della pandemia sale così solo tra le corsie del rummo a 323. Scende invece a 20 il numero dei pazienti che ancora lottano all'interno dei reparti del padiglione Santa Teresa. Due le persone dimesse e un nuovo ingresso in ospedale, praticamente impicchiata invece ai nuovi contagi. L'Asla di Benevento registra solo 4 positivi su 504 tamponi processati, praticamente meno dell'1% con solo un caso sintomatico, 6 invece guariti. E corre veloce la campagna vaccinale con 198.000 vaccinazioni e il record di 5.000 dosi in un giorno con il coinvolgimento di ogni area del Sannio. I vaccini sono stati consegnati, ci sono stati distribuiti dall'Asla. In maniera tempestiva abbiamo potuto effettuare le vaccinazioni a un'altissima percentuale di pazienti. Addirittura superiamo il 60% a questa data. In maniera tempestiva abbiamo potuto effettuare le vaccinazioni a un'altissima percentuale di pazienti.